Salve, grazie dell'invito e grazie della vostra presenza e dell'attenzione che mi dedicherete. Intanto che carico il documento mi piaceva ringraziare sicuramente le persone che ci hanno voluto qui, quindi alcuni degli editori che ha citato prima il Presidente, ma anche il gruppo Network, che chiaramente è sempre parte della nostra piattaforma. Non l'ho caricata prima, quindi la carico ora adesso la mia... Eccola qua. Spendo due parole per dirvi semplicemente quello che diciamo magari è importante sottolineare della nostra azienda. È un'azienda che nasce nel 2008 con dei professionisti, l'abbiamo in 5, oggi siamo in 25. E grazie a tutti gli editori, anche perché la cosa carina da sottolineare è che quando pensi a un prodotto per l'editoria digitale, devi pensarlo non, diciamo, per fare delle cose, ma perché davvero serva a vendere, serva a produrre su serio soluzioni e idee, e vederlo ogni giorno sul tuo PC o sui tuoi device, e capire che cresce di giorno in giorno è sicuramente la migliore soddisfazione. Sapere che in pochi anni abbiamo venduto a tantissimi editori italiani e oggi occupiamo posizioni di maggioranza a livello del mercato, ad esempio Malesia, Indonesia o altri posti, ci fa capire che evidentemente abbiamo guardato le cose dal punto giusto, che è sempre il problema dei programmatori o di chi inventa programmi, cioè li fa complicati, facilissimi per lui, impossibili per gli altri, o per quello che riguarda piattaforme particolari. Noi quando abbiamo iniziato a pensare di poter fare qualcosa nell'editoria nel 2009, abbiamo detto, cominciamo a guardare che cosa fanno i più bravi e poi vediamo se forse riusciamo a capire se siamo all'altezza o no. Il test credo che sia riuscito, non solo siamo rimasti compatti come una squadra, che si muove cercando di portare il proprio prodotto ai massimi livelli possibili, ma soprattutto siamo rimasti vicino agli editori piccoli, perché con quelli siamo partiti, con quelli credo che non smetteremo mai di avere a che fare, perché sono quelli che riservano le idee migliori e hanno i contenuti migliori, perché nessuno può avere le notizie di un piccolo paese piuttosto che di una piccola provincia. Ed essendo che li ho contattati tutti all'inizio della nostra avventura, ed essendo che ho parlato con tutti e mi sono misurato con tutti, è stato bello anche vedere che non ho mai perso un'offerta, chiunque ha sentito e ha visto il nostro prodotto lo ha comprato e oggi alcuni sono in sala, sanno perfettamente che funziona. Perché? Perché non è una questione di dire il mio, marchio, il tuo, il taglio del vestito, bello, brutto, rosso, bianco. È una questione di dire può funzionare? Qual è la filosofia che c'è dietro? Come funziona? Chi è il cliente che viene da me? Come fa a trovarmi? Prima la dottoressa ha nominato veramente importantissimi, diciamo, nodi strategici. Come cappero ci trovano? Da uno store? Qualcuno sa cos'è? Non so, uno store, tu trovi sul tablet, clicchi, c'è uno store. È la cosa più difficile del mondo. Una volta scoperto qual è l'app store, bisogna capire quali sono le chiavi per andare a cercare il giornale. Tutti sono capaci di trovare Corriere, Repubblica, chi è che non li trova? Provate a trovare, non so, il Corriere di un paese che nessuno conosce, però magari è la notizia che vi interessa. Però magari è lei che ha il fatto in anteprima, però magari lei ha quella che noi crediamo essere il valore vero del territorio. Lei ha la notizia in casa, ha la gente lì che ne parla, ha gli fotoreporter, ha l'interlocutore, ha tutto. Perché dobbiamo leggere su un altro giornale? Questo è quello che ci siamo sempre posti. E quindi da lì abbiamo cominciato a stendere delle possibilità, delle strategie. Ho messo delle fotografie qualunque, semplicemente perché erano belle. E perché secondo me il concetto è tutto qua. Come fanno a trovarci? La nostra piattaforma, poi vi farò vedere la classica brochure istituzionale, ma che va a spiegare i concetti chiave, è esattamente quella. Trovarci, farci trovare. La nostra piattaforma è l'unica, e non lo dico perché la voglio vendere oggi, ma è solo perché mi vanto del fatto di aver pensato che questo concetto poteva funzionare, indicizza tutti i contenuti sui motori di ricerca, ma non li regala. Perché sfrutta quello che è un nostro concetto, della signorina che prima mostrò una slide, dell'edicola, come si va in edicola. Esattamente quello, arrivo in edicola e se sono un abbonato, comprerò il mio giornale. Punto. A meno che qualche giornale davanti all'edicola mi dirà, guarda quel titolo non lo conosco, però questa notizia mi interessa. Allora verrò attirato grazie al fatto che ho visto qualcosa che mi può interessare. L'offerta visiva, se invece noi entriamo e c'è un portale con scritto se vuoi vedere, nemmeno sbircia, compra, paga, ora, adesso, subito, tira fuori la carta di decreto, ok, compro il mio giornale allora. Ma se in quel momento noi creiamo quello che è l'effetto edicola a livello digitale, cioè tu non mi conosci, quindi io sono uno di quei potenziali clienti che potrebbe essere interessato, falso il microfono e mi viene la gobba, scusate, di quei potenziali clienti interessati alla mia notizia te la faccio vedere per un tempo gratuito, piccolo e limitato, che però ti consente di assaggiare e decidere se è il caso o no di comprare, di cambiare, perché il mare magnum di quello che è il potenziale cliente in internet è composto da persone che stanno cercando sui motori di ricerca, cercano delle chiavi e quando parlate, esempio, dico stupidaggini, ma perdonatemelo, incidente a Vercelli, le parole incidente a Vercelli, perché magari è accaduto, l'ho sentito in radio, in macchina, o in tablet, o in smartphone, quelle due parole devono far risultare che l'attestata giornalistica locale, che ha scritto sicuramente in tempo reale, mi auguro, quel pezzo, è la prima a mostrarlo nei motori di ricerca, Google è molto sveglio, oggi mi sembra delle volte, ma lo dico sempre con la provocazione di chi ha voglia di spiegarsi, mi sembra di parlare di energie rinnovabili ai petrolieri, cioè il concetto è davvero possiamo fare di più, e i più piccoli hanno sempre fatto i cambiamenti, non i più grossi, i più grossi sono intentissimi a governare la grande barca, restare lì, il bilancio è quello, voi avete un potenziale enorme, io questo, ripeto, lo vedo in tutti quelli che hanno provato, visto e misurato sul campo, quelle che sono effettivamente i risultati, la chiave di ricerca, la gente usa Google, l'ha appena imparato da qualche anno, quindi qualcosa rigiderà, se in quel qualcosa noi ci siamo e quando clicca gli faccio vedere per 30, 60, 90 secondi il contenuto, non soltanto quei 90 secondi hanno permesso al motore di ricerca di entrare e indicizzare i miei contenuti, ma di farli assaggiare, quando li hai fatti assaggiare, la partita è fra quello che tu hai scritto e l'interesse dell'utente, è semplice, ma se ti devo cercare in un Google Play dove quando metto dentro quotidiano mi escono qualsiasi cosa tranne i veri quotidiani, la partita è quasi persa, quindi i motori che hanno fatto giustamente le aziende come Apple, come Google, come Windows, cioè piattaforme che noi utilizziamo regolarmente, la nostra applicazione è l'unica a avere veramente multi piattaforma, noi andiamo anche sulle tv Samsung, App Store, tu puoi leggere, comprai il giornale su iPhone, puoi andare a casa, hai una Samsung TV, l'agganci e ti loghi con le tue credenziali e leggi, ci sembra la cosa più naturale del mondo, ma se vi ricordate fino a due anni fa, o credo ancora ora, un anno fa forse meno, se tu compravi Repubblica su iPhone, puoi andare a casa sul pc, non la leggevi, ecco, ho comprato la copia di oggi, cioè l'oggetto digitale deve essere uguale a quello di carta, lo tocco, lo prendo, è mio, l'ho pagato, lo vedo quando e dove voglio, tutte queste regole che sembrano basiche, non sono mai rispettate da chi sviluppa tecnologia, da chi realizza tecnologia, e chiaramente, ripeto, questa è una cosa basilare, se io compro un oggetto sul mio smartphone in metropolitana, quando torno a casa la sera lo voglio vedere sul mio smartphone, spero di guardarmelo in tv, o sul mio pc, non so, di sicuro è questo, però do una sbirciatina dallo smartphone, però magari un mio amico mi ha postato un articolo di Corriere della Sera su Facebook, ad esempio, e io ci clicco per andarmelo a leggere, qual è la sorpresa quando noi clicchiamo sopra Facebook un articolo di Corriere o Repubblica o Gazzetta dello Sport? Qualcuno di voi l'ha mai provata? Io l'ho provata, non ci andrò mai più, perché so già che tanto mi chiede i soldi, io clicco su un post di un mio amico di Gazzetta dello Sport, clicco, e lui mi dice non te lo faccio leggere quest'articolo, ok, il giorno dopo riprovo, clicco, non te lo faccio leggere, e allora che cappero me lo dice a fare? Per farmelo comprare, non è molto funzionale, perché se io non sono un lettore di quel giornale, quel giornale non lo compro da un titolo, lo compro se me lo fai assaggiare, quindi se io avessi un paywall temporale come noi utilizziamo da anni, io potrei avere l'occasione di, ah, godere del fatto che il mio amico mi ha detto vai lì, guarda questo articolo è fortissimo, me lo leggo, uno, due, tre, mi piace questo giornale, a quel punto decido anche di fare un abbonamento o di comprarmi una copia digitale, queste sono le filosofie che nessun sviluppatore racconta o chi fa piattaforme, la cosa dispiace, perché? Perché in realtà sono di quelle di cui abbiamo bisogno, se io cerco incidente Vercelli, voglio trovare, voglio cliccare e entrare in uno sfogliabile che è il giornale di Vercelli, e che mi fa vedere quella notizia, dopo 60 secondi mi dice lo vuoi acquistare? Vuoi fare un abbonamento? Perché tanto quella notizia la batteranno altri 500 siti, bloggers e quant'altro, la vedrete al giornale, la sentirete per radio, la battaglia non è, a chi la dà per prima, inteso come, ah, allora aspetto, mi brucio la copia di carta, la battaglia è darla per primi, quindi molto più difficile, e al meglio possibile, arricchendo le fonti, cercando qual è il punto di vista di chi vuole sentirla, io credo che, cioè l'editoria oggi abbia un problema principale, cioè quella che, avendo la fortuna di vedere anche in altri paesi, di conoscere anche i piccoli imprenditori, di capire che non possiamo stare qua a pensare che la carta è la risorsa definitiva, la crisi esiste, è evidente, ma l'Huffington Post molti pensavano che fosse un blog, oggi è di Marduk, ma è nato come un sito, è l'idea che vince nel digitale, nel digitale abbattiamo quelle barriere di capitali che sono necessarie per aprire aziende, nel digitale noi possiamo avere la possibilità, grazie all'idea, alla giusta tecnologia, di realizzare realmente numeri importanti, il problema è non affiancarsi a chi non l'ha capito, lo fanno loro, lo facciamo anche noi, io credo di aver slitigazzato diciamo con la maggior parte degli editori che compongono il nostro bouquet, parliamo di più di 250 aziende, perché? Perché ho dovuto prima di tutto dirgli no, questo non posso fartelo, questo non funziona, proprio perché è importante confrontarsi, molti dei miei moduli, la nostra piattaforma ha circa 25 moduli aggiuntivi dedicati alle esigenze specifiche di ogni mercato e di un editore, va fatto un controllo, una verifica, ma non perché ce l'ha il grande, perché ce l'ha il senatore dell'editoria, allora dobbiamo averlo, perché loro viaggiano su completamente altre cifre, altri numeri, com'è possibile non comprare una coppia singola di un giornale locale? Devo comprarla, perché se io non sono un abbonato, ok, io voglio assaggiarla, se non me la fate assaggiare io rimango nel vecchio, rimango in quello che è la mia abitudine, è necessario solleticare il cambiamento, quindi la coppia singola come prodotto digitale deve essere venduto, se le pubbliche Corriere non lo fanno giustamente, hanno una strategia di marketing che è vincente, io sono grosso, grande, sono il riferimento, mi compri il taglio minimo alla settimana, punto, ma non pensiamo di fare come loro, perché sbagliamo, perché proprio perché siamo più agili, più snelli, non degli elefanti, è necessario che abbiamo una strategia di accesso e di approccio completamente differente, e lo dico sempre riportando la voce e l'ascolto di tanti editori piccoli e grandi che abbiamo sempre servito in questo modo. La nostra azienda con la stessa piattaforma che oggi ha, ad esempio, alcuni sprint e sport, saluto Claudio che è in sala, che tra l'altro ha esposto lui questo invito, io lo ringrazio perché raramente andiamo a un incontro, la stessa piattaforma che ha Claudio, ce l'ha il New Story Times di Malesia, che è paragonabile al Corriere della Sera, che fa 20.000 euro al giorno, è la stessa, ma proprio perché è modulare, il prezzo giustamente non va a impattare in un piccolo editore, è pensata per dire, non è che prendi un pezzo, prendi una macchina, però a te ti do una portiera, tanto ti do una macchina che ha lo stesso motore, ma proprio perché tu la userai meno, perché avrai meno clienti, ma avrai meno occupazione, ti do una soluzione finita, punto, questo è quello che devono avere gli editori, cioè devono pensare alla qualità del loro contenuto e alla strategia da imporre sul proprio mercato, alla tecnologia giustamente devono avere un partner affidabile serio che consente e realizza quello che è l'importanza e dà a vedere poi i numeri, questa secondo noi è la cosa più importante. Un altro punto che volevo toccare, se ci siamo, è che mi sembra sempre di vedere un film già visto alle volte, cioè quando nel 2000 ad esempio Apple ha tirato fuori quello che si chiama iPod, ha cominciato a dire la musica digitale, le case escografiche ridevano, ridevano, cioè non è possibile ridere oggi, perché dieci anni dopo, l'ultima, la Amy credo è stata acquistata proprio in questi ultimi mesi da, sono in crisi profonda e nera, perché come al solito hanno detto, no no ma finché dura noi stringiamo, cambiare, purtroppo è così, cioè l'evoluzione è una necessità di qualunque cosa, è necessaria, quindi dobbiamo adeguarci, come ci adeguiamo, con quali strategie, con quali tecnologie, queste sono le domande, quindi la prima cosa che mi chiedo è, quando il nuovo portale ad esempio, mi permetto la provocazione ma Bonaria, perché ha fatto una presentazione eccellente la dottoressa, quando il nuovo portale Cubo Magazine, Cubo Libri, mi presenta una iscrizione e io, Cavallo Gianluigi che ho provato là mentre la vedevo, non riesco a iscrivermi, c'è un problema di interfaccia, provate ad andare a iscrivervi su Facebook, Cappery non sbaglia nessuno, c'è un problema, mi chiede un codice barrato, se io ho preso da poco in quel momento conoscenza con i computer e comincio a avvicinarmi, forse posso avere qualche difficoltà, sono questi i punti che poi dicono, eh, l'interior digitale non funziona, non è vero che non funziona, sicuramente è difficoltà, sicuramente dobbiamo trovare i modelli giusti, ma sicuramente sarebbe ora che cominciamo a pensare che non è che se l'ha fatto un grande dobbiamo farlo anche noi, e vedere davvero dove si misurano, chiedere a chi vi sviluppa il software, chiedetegli davvero i dati giusti, di capire chi è che legge, quanto legge, a che pagina è, quante volte si è fermata, pagina 4 dove c'è la pubblicità, chiedetegli questo a chi vi realizza le applicazioni, non prendetele da me, ma a chi lo fa, chiedeteglielo, perché quando avremo dei competitor seri in questo senso, anche io dovrò alzare il tiro di quello che è la mia tecnologia, è questo la stimolazione di crescere verso un qualcosa che davvero ci appaga, ma questo non lo vedo da anni, noi nel 2009 eravamo i primi in Italia, ok, e tra virgolette non sono il mondo nello informato, con una conferenza che trovate su YouTube dove come casi di studio avevamo Libero e Riformista, i due primi grandi giornali che abbiamo preso nel 2009, eravamo i primi a farli pagare con il telefonino, tu entravi, dopo 90 secondi usciva il paywall temporale, ti oscurava e ti diceva, desideri acquistare questa coppia? Sì, come faccio a chiederti una carta di credito nel 2009? Molti di noi pagavano in un qualche modo, allora c'è venuta un'idea, abbiamo contattato chi dovevamo contattare e tu pagavi, c'è l'esempio online, c'erano i servizi di Canale 5 della Rai 1 dove tu vedevi che questa gente pagava, Belpietro stesso era sorpreso perché chiaramente l'aveva visto dopo, nel senso i tecnici hanno comprato il sistema e gli ha detto, direttore mi hanno comprato questo, capri ma è proprio comodo, questo era il senso, credete che tecnologicamente qualcosa sia impossibile oggi? Ma nemmeno per idea, io volendo al mio cliente potrei dirgli anche in quale momento, dove, in che posizione GPS sta leggendo il mio lettore, volendo, ledo un po' la privacy, però posso farlo, non c'è niente di tecnologicamente impossibile, solo una questione di idee, di come le mettiamo e di dove le mettiamo, tutto qui, questo era il mio intervento, non volevo pubblicizzare la mia piattaforma, ma volevo presentarvi delle filosofie dei concetti perché mi stanno veramente a cuore, credo che ci voglia un po' più di rock and roll all'interno di questo contesto editoriale. Grazie a tutti.